Il leone, il cinghiale e gli avvoltoi da Esopo. Durante l'estate, quando l'afa e il caldo provocano la sete, un leone e un cinghiale si trovarono nello stesso momento vicino a una piccola sorgente. Cominciarono subito a litigare perché tutti e due volevano bere per primi. Dalle parole passarono i fatti, iniziarono a lottare furiosamente e ad azzannarsi. Erano già feriti e sanguinanti quando, alzando lo sguardo al cielo per riprendere fiato, videro uno stormo di avvoltoi, gli uccelli che si nutrono di corpi morti. Questi aspettavano in attesa di divorare il primo che fosse caduto morto. Così il leone e il cinghiale interruppero la lotta e dissero, meglio essere amici tra di noi che essere cibo per gli altri animali.